Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Scamptgamer e oggi siamo entro da questi miei amici e giocheremo a Brawl Stars, dai vediamo un po' che facciamo fare dai accettatemi eccoci ragazzi stiamo andando in partita con i miei amici ok 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 e questo è il dottico Ok È la prima labbra di vento Che ragazzi Ok arriva a sudare Ok Ok È stato un bel po' Che l'altro dai Grande Attacchiamo Attacchiamo Ok raga Vinto Ok ragazzi È stato un bel po' No 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 No